Trenitalia regionale introduce il biglietto elettronico, è più flessibile e una volta acquistato può essere modificato, scegliendo un'altra data o un altro orario di partenza, oppure se ne può chiedere il rimborso. La novità introdotta conferma gli impegni presi con i clienti e associazioni di consumatori e allinea il biglietto regionale elettronico a quello cartaceo, consentendo un cambio data e un rimborso per rinuncia al viaggio, fino alle 23.59 del giorno precedente a quello inizialmente scelto, attraverso l'area riservata ai miei viaggi su trenitalia.com, app Trenitalia o nella sezione cerchi e modifica il biglietto, sempre su trenitalia.com. Un altro rilevante passo nella direzione di un sempre più facile accesso grazie ai sistemi digitali e ai servizi di trasporto ferroviario e regionale di Trenitalia, che hanno registrato nel 2016 oltre 1.700.000 viaggi al giorno. L'acquisto del biglietto regionale da sistemi digitali, da PC o da device mobili, anche attraverso l'app Trenitalia, ha conosciuto negli ultimi anni una notevole crescita. Nel 2016 sono stati oltre 8 milioni e mezzo i biglietti regionali acquistati su trenitalia.com e app, contro i 5 milioni e 200 mila del 2015 e i 3 milioni e 200 mila del 2014. Nell'ultimo anno la crescita è stata di oltre il 63%, nel biennio del 157%. Nel 2017 l'obiettivo è raddoppiare il target raggiunto quest'anno.